ciao in questa seconda video lezione dedicata alla produzione di montale analizzeremo i contenuti generali e leggeremo alcuni dei testi contenuti nella prima delle raccolte pubblicate dal poeta uscita in prima edizione nel 1925 e cioè gli ossi di seppia per la lettura mi sono affidato a voci più illustre della mia quindi questa è una novità ho cercato la performance di alcuni autori che ci aiuteranno a confrontarci in maniera adeguata con i testi vi ricordo che la conoscenza dei testi è più importante delle linee generali nel senso che ciò che noi diciamo di ciascuna delle raccolte evidentemente è desunto dai testi e non viceversa quindi andiamo a introdurre gli ossi di seppia gli ossi di seppia furono pubblicati per la prima volta nel 1925 quindi ripubblicati con ampliamenti all'inserimento di liriche nuove nel 1928 la versione definitiva si compone di quattro sezioni chiamate movimenti ossi di seppia che dà il titolo all'intera raccolta mediterraneo meriggi e ombre di questa divisione interna però non terremo particolarmente conto nella nostra trattazione né vi si chiede di ricordare a quale specifica sezione appartiene ciascuno dei componimenti che leggeremo sappiate però che il poeta intendeva proporre i propri componimenti con un criterio ben preciso che certamente va verso la direzione di una progressiva oscurità l'ultima sezione per comune consenso della critica meriggi e ombre contiene le liriche di più difficile interpretazione il titolo fa riferimento all'osso interno che le seppie lasciano dopo la morte sulle spiagge non so se vi è mai capitato anni fa si trovavano in particolare nella liguria la regione di montale talvolta capitava di trovare sulle spiagge queste strutture osse lanceolate che tra l'altro vengono di solito utilizzate nelle gabbie dei canarini perché possano limarsi il becco e acquisire un po di calcio a che cosa fa riferimento il titolo beh chiaramente a uno scarto a un detrito dell'esistenza che viene abbandonato sulla spiaggia quindi fin dall'individuazione del titolo generale montale suggerisce al lettore che la sua poesia non avrà un significato particolarmente aulico e solenne ma sarà piuttosto una riflessione sulle difficoltà dell'esistenza contribuisce a questo la arsura il vocabolo è scelto dall'autore stesso del paesaggio ligure un paesaggio appunto brullo scabro roccioso non necessariamente ospitale che è sullo sfondo di molti dei componimenti contenuti negli ossi di seppia in particolare montale utilizza spesso l'allegoria del muro il muro a secco che cinge alcuni dei giardini non particolarmente rigogliosi della collina ligure e che va interpretato come la recinzione che fa della vita stessa una sorta di prigione è l'immagine più nota ad esempio del componimento più noto di tutti meriggiare pallido e assorto ma vedremo poi come il poeta propone questa idea all'interno del componimento stesso la forma è per lo più scarna sicuramente aspra con un particolare ricorso a suoni che vogliono essere volutamente poco musicali e certamente lontana dalla solenne seriosità dei poeti laureati espressione che ho posto tra virgolette perché è una citazione nel componimento di apertura di ossi di seppia quello che in generale possiamo considerare proemiale cioè quello che contiene un po le intenzioni dell'autore è fuori di discussione che il poeta cerchi di porre se stesso e la propria produzione lontanissimo dai grandi nomi della fine dell'ottocento e dall'inizio del novecento su tutti i carducci da un lato ma in particolare d'annunzio vediamo alcuni dei temi che vengono trattati in questa raccolta soprattutto in relazione ai testi che leggeremo intanto assistiamo ad una sorta di perdita dell'identità individuale nel senso che il poeta la voce dell'io lirico non è in grado di individuare il proprio ruolo nell'esistenza il proprio ruolo nel mondo ne deriva una persistente condizione di disarmonia con la realtà che lo circonda che il poeta spesso non capisce e questa incomprensione gli comunica grande disagio quindi un tema assolutamente ricorrente è quello dell'inquietudine del pessimismo dominante la visione di montale soprattutto in questa raccolta iniziale è certamente di estremo pessimismo in una delle liriche montale utilizza un'espressione divenuta giustamente quasi proverbiale cioè sostiene che l'esistenza è in realtà il male di vivere un tema che attraverso la definizione montaliana possiamo certamente individuare attribuire anche a molti altri autori di questo stesso periodo ed è in qualche modo da porre in relazione anche con un tema che abbiamo già menzionato precedentemente che in fondo è quello dell'inettitudine ricordate che l'inetto in senso etimologico è colui che è inadatto a vivere ecco questa vita così dolorosa che rappresenta soltanto un male una sorta di condanna è in fondo il corollario di questa inettitudine quindi il tema del male di vivere anche se specificamente compare in una poesia di questa specifica raccolta che è ossi di seppia è in realtà un tema trasversale della prima parte della letteratura del novecento ma anche la poesia non fornisce risposte i nostri di seppia c'è grande sfiducia nella poesia se non per minimi istanti di intuizione che può essere definita miracolosa cioè in alcuni attimi particolarmente fortunati che il poeta certamente non può produrre a comando ecco che la poesia sembra quasi indicare come e perché la vita non funziona e come perché l'esistenza è un male di vivere però in questi casi la poesia non fa altro che rivelare il nulla dell'esistenza o l'inganno che essa cela resta da aggiungere qualcosa sulle soluzioni formali cioè com'è il verso com'è la musicalità della lingua di montale in ossi di seppia il verso è libero ma con il recupero di elementi tradizionali cioè molto spesso quando il verso apparentemente sembra totalmente privo di regole è in realtà la combinazione di versi tradizionali montale è un appassionato difensore dell'endecasillabo che riemerge anche laddove apparentemente il modo di andare a capo suggerisca che ci si trovi di fronte a una maggiore libertà formale talvolta il verso in effetti isola un'intera frase e in questo senso siamo un po' agli antipodi della fiducia nella parola assoluta che abbiamo individuato nelle poesie di ungaretti quindi la talvolta si isola il monosillabo qui in qualche modo si va a capo soltanto quando il concetto è stato finito anche oltre il limite del verso tradizionale anche se abbiamo visto che in realtà quando il verso è più lungo è tendenzialmente la combinazione di versi tradizionali più brevi il linguaggio attinge molto alla prosa con singoli inserti aulici cioè ogni tanto il termine ricercato costringe il lettore a un surplus di attenzione è una tecnica molto raffinata con la quale si costringe il lettore appunto a concentrare la propria attenzione sui passaggi cruciali e la stessa sintassi si complica per sottolineare gli snodi concettuali del ragionamento di solito la sintassi di ossi di sepia è piuttosto semplice quando non lo è quando improvvisamente si ricorre a una paratassi complicata o si altera la successione naturale degli elementi della frase per cui ad esempio il soggetto è in fondo o un verbo intransitivo diventa improvvisamente transitivo ecco con espediente di questo tipo montale invita il lettore a prestare adeguata attenzione la poesia di ossi di seppia si fonda anche sulla poetica degli oggetti vengono cioè introdotti molte realtà di uso assolutamente quotidiano e si sviluppa ancora embrionalmente la tecnica del cosiddetto correlativo oggettivo che verrà ulteriormente raffinata nella raccolta successiva cioè le occasioni a questo punto possiamo passare alla lettura diretta di alcune delle liriche la prima poesia che leggiamo integralmente è in qualche modo quella proemiale in realtà non è esattamente la prima della raccolta montale scrive un componimento intitolato in limine cioè sulla soglia per introdurre il suo lettore agli ossi di seppia ma il testo di cui ci occupiamo adesso ha appunto valore programmatico si fonda sull'idea già portata avanti da altri autori che possa esistere una sorta di analogia tra il tipo di componimento di un autore e una particolare pianta è un'idea sviluppata per esempio nella quarta bucolica di virgilio attraverso l'idea della tamerice le famose mirice poi a sua volta recuperate riprese da pascoli ebbene la poesia di montale è paragonata e rappresentata da una pianta di limone selvatico e quel profumo e quella macchia di colore il giallo dei limoni sono l'unica piccola speranza che in una visione decisamente negativa e pessimista della vita come abbiamo detto resta al poeta stesso e quindi ascoltiamo la lettura dei limoni cui farà seguito un breve commento trovate questa lirica di fondamentale importanza ai limoni sul libro di testo tra le pagine 306 e 308 la legge per noi un grande attore di qualche anno fa nando gazzolo ascoltami i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati bossi ligustri o accanti io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottiti dall'azzurro più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove e i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra e piove in petto una dolcezza in pieta qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni vedi in questi silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura il punto morto del mondo l'anello che non tiene il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità lo sguardo fruga d'intorno la mente indaga accorda disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase la pioggia stanca la terra di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case la luce si fa avara amara l'anima quando un giorno da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfa e in petto ci scrosciano le loro canzoni le trombe d'oro della solarità il testo si apre rivolgendosi ad un interlocutore che non viene identificato montale vuole l'attenzione di qualcuno e a lui dice ascoltami dopodiché sviluppa il proprio ragionamento se vale l'equivalenza tra l'idea della pianta che rappresenta il tipo di poesia che ciascun poeta compone i poeti laureati cioè quelli illustri non tanto quelli che hanno finito gli studi perché parte del bersaglio di questi versi è sicuramente d'annunzio che notoriamente laureato non era ma insomma i poeti illustri si muovono soltanto tra piante dai nomi rari bossili gustri o acanti notate anche al verso 3 l'assenza di punteggiatura bossili gustri o acanti deve essere pronunciato come se fosse un unico flusso di voce al contrario la poesia di montale può essere raggiunta solo alla fine di un faticoso sentiero di campagna le strade che riescono cioè escono fuori verso i fossi le cui sponde sono coperte di erba tra pozzanghere dove i ragazzi cercano le anguille notate tra i versi 5 e seguenti il costante ricorso ai suoni aspri per indicare come la via della poesia di montale sia malagevole pozzanghere ragazzi sparuta viuzze ciglioni ciuffi delle canne e poi questi sentieri le strade che riescono agli erbosi fossi mettono cioè portano negli orti al verso 10 tra gli alberi dei limoni come a dire il faticoso e poco nobile cammino della poesia di montale indirizza verso una pianta diversa ecco che si stabilisce l'equivalenza tra il limone e la poesia dell'autore meglio allora dal verso 11 se le gazzarre cioè le liti degli uccelli il loro cinguettare il loro rumore in cielo si spegne nel blu nell'azzurro del cielo stesso perché così si può ascoltare meglio il sussurro dei rami che sono già diventati amici il lieve e carezzevole rumore prodotto dai rami dei limoni viene sentito come familiare e il profumo di questa pianta piove in petto una dolcezza inquieta notate al verso 17 intanto l'uso non comune del verbo piovere in senso transitivo cioè fa piovere nel petto una dolcezza che però per ossimoro è inquieta e alla presenza dei limoni quindi in qualche modo di fronte all'ispirazione della poesia tace la guerra delle passioni intense ma anche divertite quindi di nuovo con questo ossimoro che può rappresentare l'incoerenza della vita e qui di fronte ai limoni al verso 20 in questo lunghissimo verso tocca anche a noi poveri cioè a noi che non siamo poeti laureati la nostra parte di ricchezza e questa ricchezza è appunto l'odore dei limoni dal verso 22 il poeta torna a rivolgersi al suo interlocutore vedi gli dice in questi silenzi in cui le cose sembrano abbandonate e quasi vicine a tradire il segreto ecco di fronte a questo attimo miracoloso ci si aspetta la possibilità di capire cioè al verso 26 di scoprire uno sbaglio della natura perché esiste questa sensazione di disagio questa impossibilità di comprendere il senso di ciò che ci circonda deve esserci un punto morto nel mondo e nella catena infinita di causa effetto un anello che non tiene al verso 27 un filo da disbrogliare seguendo il quale per l'intercessione quasi miracolosa dei limoni cioè dell'intuizione poetica finalmente seguendo questo filo noi possiamo arrivare al mezzo di una verità chi si trova al cospetto dei limoni e respira il loro profumo e come stimolato a investigare intorno a sé lo sguardo fruga d'intorno e poi notate al verso 31 di nuovo la triplice serie di verbi la mente indaga corda disunisce come in un unico flusso verbale un concetto unico non separato da virgole nel profumo dei limoni che dilaga si estende soprattutto quando le luci del giorno sembrano venire meno e in quel silenzio innaturale addirittura sembra discorgere in ciascuno di noi nell'ombra di ciascuno di noi una sorta di immagine di una divinità che però al verso 36 è disturbata ecco la totale sfiducia di un progetto provvidenziale immontale c'è semmai un anello che non tiene c'è qualche cosa che non funziona nella creazione non sicuramente il progetto provvidenziale di un dio buono ma ecco che il miracolo rappresentato dalla poesia dei limoni si esaurisce presto e il tempo soggetto al verso 37 ci riporta nelle città rumorose quindi tenete conto che siamo sostanzialmente negli anni venti ma c'è già il rammarico di dover lasciare il silenzio creativo della campagna per i rumori della grande città dove l'azzurro del cielo si mostra a pezzi tra le cimase cioè limitato e nascosto dai profili dalle grondaie delle case cioè i tetti le coperture delle case in città ci impediscono di vedere il cielo metafora del fatto che non si è liberi di guardare in alto verso il sublime quanto si vorrebbe e mentre piove e la pioggia sfianca stanca la terra si affolta cioè si fa folto si concentra il tedio la noia esistenziale sulle case che sono perennemente in inverno con le tenebre la luce diventa avara di sé cioè si risparmia non si concede e amara l'anima notate la figura di suono che contrappone avara ad amara ulteriormente evidenziata dal fatto che la parola successiva ha lo stesso numero di sillabe ma è sdrucciola avara amara anima il tedio dell'inverno la fatica di vivere quello che con felice sintesi verrà chiamato il male di vivere che accompagna la vita cittadina rimarrà con noi a lungo fino a quando il miracolo in qualche modo si ripeterà e un giorno da un portone chiuso male attraverso il quale si intravede il cortile interno tra gli alberi di una corte appunto il cortile verso 44 vedremo torneremo a vedere il giallo dei limoni ed ecco che il freddo del nostro cuore si disferà si sfa il gelo del cuore si sfa verso 46 e in petto scrociano i loro suoni le trombe d'oro della solarità un verso particolarmente sonoro particolarmente glorioso si potrebbe dire che è in qualche modo il suono che si accompagna alla luminosità e alla potenza evocatrice dei limoni che sono appunto la poesia la presenza della quale sembra quasi di intuire il significato dell'esistenza nel componimento successivo tra quelli che leggeremo non chiederci la parola montale ridiscute radicalmente il ruolo che il poeta può avere nei confronti della società non quello di un vate di un ispiratore di un profeta di uno che ha la verità e la spiegazione in tasca come poteva essere d'annunzio ma appunto soltanto qualcuno che amaramente contempla la realtà che lo circonda e può dire al suo lettore soltanto ciò che non sa e ciò che non vuole trovate non chiederci la parola pagina 310 del vostro libro di testo e ascoltiamo la lettura di uno dei più grandi attori teatrali italiani vittorio gasman non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e al lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato all'uomo che se ne va sicuro agli altri ed a se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro non domandarsi la formula che mondi possa aprirti sì qualche storta sillaba e secca come un ramo codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo ciò che non vogliamo passiamo al commento una vera e propria parafrasi non è necessaria vedete che il testo è articolato su tre quartine i cui versi liberi rimano variamente tra loro il poeta dichiara a un inidentificato interlocutore di non avere risposte risolutive non chiederci la parola che squadri cioè definisca e renda regolare quello che è l'animo informe dell'io lirico e non è in grado di dichiararlo al verso 3 cioè non è in grado di illustrarlo chiaramente e farlo risplendere come un croco cioè un umile fiore tra i primi che sbuca in mezzo alla neve o quando appunto l'erba è ancora gelata per l'inverno termine di confronto certamente umile che sottolinea anche come introducendo un termine di paragone montale non si discosti da una realtà tutt'altro che solenne enfatica ma utilizzi appunto particolari di una quotidianità nel complesso degradata la seconda quartina è esclamativa a l'uomo che se ne va sicuro indica l'invidia quasi dell'io lirico nei confronti di chi ha certezze e apparentemente in sintonia con se stesso e con gli altri agli altri a se stesso amico e non si preoccupa della canicola cioè del sole ardente ecco che torna all'immagine dell'aridità del calore dell'arsura che stampa la sua ombra su un muro che è scalcinato sia lo sfondo della vita è rappresentato sempre da una realtà piuttosto degradata e quindi il poeta torna sul concetto iniziale nella terza quartina non domandarci la formula che possa aprirti mondi cioè che ti possa schiudere delle realtà ricche di significati diversi e poi notate al verso 10 l'effetto fonico sì qualche storta sillaba e secca con la vistosissima all'interazione della s a sottolineare la difficoltà di procedere quasi di formulare il verso stesso e concludendo tutto ciò è quanto il poeta può in effetti dire quindi una dichiarazione in via negativa ciò che non siamo ciò che non vogliamo montale in questi versi dichiara tutta la propria sfiducia nei confronti della poesia rivelatrice nei confronti del verso significativo che possa schiudere con sovrana intuizione poetica il significato stesso dell'esistenza così non è negli ossi di seppia così non è per montale leggeremo adesso il componimento più antico tra quelli contenuti negli ossi di seppia meriggiare pallido e assorto è lo stesso poeta che ricordava in un'intervista che il componimento era già stato completato nel 1916 quindi risale addirittura agli anni della guerra la guerra però non c'entra si tratta della descrizione di un paesaggio ligure in cui a fatica oppressi dal caldo si trascorrono le ore più calde della giornata e il muretto che ci rinchiude in questa sorta di orto forse più che giardino è metafora dell'esistenza non possiamo uscire il nostro orizzonte è limitato il nostro disagio è accresciuto dal caldo e quella recinzione che ci impedisce di muoverci ha in cima cocci a guzzi di bottiglia trovate meriggiare pallido e assorto a pagina 313 del libro di testo la lettura è affidata allo stesso poeta è eugenio montale che legge questi versi in realtà un po a dimostrazione del fatto che non sempre l'autore è il miglior interprete di se stesso meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli frusci di serpi nelle crepe del suolo sulla veccia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole viche osservare tra fronti il palpitare lontano di scaglie di mare mentre si levano tremoli scricchi di cicale dai calvi picchi e andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio in questo seditare una moraglia che ancima cocci aguzzi di bottiglia il testo si articola su quattro strofette come vedete tre quartine e un'ultima strofa di cinque versi si tratta in qualche modo di una variante della struttura del sonetto anche se naturalmente lo schema tradizionale del componimento è reinterpretato e ampliato e oltretutto come vedete i versi sono 17 dal punto di vista sintattico il componimento si regge sull'utilizzo degli infiniti narrativi meriggiare al verso 1 ascoltare al verso 3 spiare e così via fino appunto all'ultima strofetta che in qualche modo negli ultimi cinque versi tira le fila del ragionamento e introduce il significato ultimo del componimento l'infinito narrativo vi ricordo è quella struttura comune anche alla lingua latina dove in realtà è persino più diffusa per cui l'infinito di un verbo sostituisce una forma flessa c'è come dire e noi li ameriggiare meriggiare nel senso di far passare il mezzogiorno di far passare l'ora più calda della giornata ed è l'ora più calda della giornata che è appunto pallida e concentrata all'ombra scarsa di un muro d'orto caldissimo perché appunto quasi incendiato dal sole dove si ascoltano tra pruni e sterpi i rumori tipici della campagna assolata notate la ricerca fonosimbolica i suoni pruni sterpi schiocchi frusci serpi che sono naturalmente tutti suoni difficili e aspri e quasi suggeriscono quello scrocchiare che talvolta si ode appunto tra l'erba secca e le frasche nella seconda quartina l'attenzione si concentra invece sulle colonne di formiche che scorrono camminano lungo le crepe del suolo o sulla veccia che propriamente è una pianta selvatica e appunto su minuscole biche al verso 8 che sarebbero le piccole gobbe del terreno si rompono e si intrecciano nella loro lunga processione e poi ancora nella terza strofa osservare tra le fronde delle piante il palpitare delle scaglie di mare cioè il mare che sembra in lontananza quasi pulsare perché si intravede soltanto tra le foglie mentre quest'immagine è accompagnata dal suono delle cicale che di nuovo è suggerita fonosimbolicamente i calvi picchi cioè in realtà le colline brulle sono il luogo dove si leva il tremulo scricchio della cicala propriamente il frinire di questo insetto e nell'ultima strofetta come dicevo l'immagine più significativa mentre si cammina in questo sole che abbaglia ci si accorge ed è ossimoricamente uno stupore una meraviglia al verso 14 ma triste come la vita il suo travaglio cioè un dolore che non dimentichiamoci etimologicamente è quello del parto ebbene mentre si procede si realizza ci si rende conto che in realtà siamo prigionieri di una muraglia che ha in cima cocci a guzzi di bottiglia è l'immagine dei muretti a secco in cui effettivamente i costruttori lasciano talvolta delle scaglie di vetro per sconsigliare e sfavorire lo scavalcamento una specie di antifurto a buon mercato ecco la vita altro non è che una sorta di prigione di questo tipo esposta al calore che quasi brucia occhi e sensazioni in questa realtà sicuramente molto da vicino ispirata dalla collina ligure in conclusione vale la pena di notare come anche i cinque versi finali siano caratterizzati dal punto di vista fonetico dall'allitterazione con piccole variazioni del suolo liquido gli abbaglia meraviglia travaglio muraglia bottiglia esiste quindi una sorta di simmetria che marca dal punto di vista fonico quasi tutti gli elementi del componimento il componimento che segue contiene un'espressione divenuta per certi versi quasi proverbiale mirabile sintesi di quel disagio esistenziale condiviso da molti intellettuali del novecento montale ci dice di avere incontrato spesso il male di vivere e lo rappresenta con tutta una serie di immagini negative della quotidianità a cui si contrappongono elementi di speranza che però non sono altrettanto forti la visione nel complesso rimane pessimista ecco questa sorta di manifesto della poetica montaliana di fronte alla desolazione dell'esistenza la trovate sul vostro libro a pagina 315 e la ascoltiamo nella lettura di un altro grande attore teatrale italiano della generazione precedente cioè arnoldo foa spesso il male di vivere ho incontrato era il rivo strozzato che gorgoglia era l'incartocciarsi della foglia riarsa era il cavallo stramazzato bene non seppi fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato passando al commento va sottolineato come vedete che il testo è molto breve costituito soltanto da due quartine in aperta contrapposizione tra loro il male di vivere è rappresentato come in una sorta di embrionale correlativo oggettivo da tutta una serie di immagini negative che quotidianamente si incontrano sulla propria strada il male di vivere incontrato è il rivo strozzato che gorgoglia di nuovo prestate attenzione all'effetto fonico di questi suoni aspri l'incartocciarsi della foglia riarsa con un jump mantra verso 3 e verso 4 e il cavallo stramazzato la fatica che non porta a nulla in cui lo sforzo non produce altro che lo schiantarsi delle membra attenti solo al verso 5 nell'espressione bene non seppi bene non è un avverbio ma è il complemento oggetto cioè significa non ho mai conosciuto altro bene al di fuori di quella sorta di miracolo rappresentato dall'indifferenza divina come si vede è una posizione quasi nichilistica non solo il problema non è se dio ci sia ma quando anche ci sia tutto ciò che si può sperare nella sua indifferenza e soltanto alla conclusione di questa seconda strofetta vengono inseriti degli elementi che possono in qualche modo rappresentare speranza una sorta di negazione degli elementi negativi della strofetta precedente ma sono come notato dalla critica elementi di segno inferiore cioè la speranza è comunque molto molto inferiore all'incombere del male di vivere e quindi appunto la statua nella sonnolenza del meriggio cioè in quella sensazione in cui si è insonnoliti per il calore del pomeriggio di nuovo il tema dell'arsura il tema ligure della calura e la statua l'unico pregio di riuscire a rimanere ritta in mezzo alla piazza però appunto isolata appunto abbandonata a se stessa e al calore della giornata un po più di fiducia invece possono infondere le altre due immagini la nuvola libera nel cielo e soprattutto il falco alto levato con l'evidente alliterazione del suono di a cioè la vocale più luminosa della lingua italiana che in qualche modo appunto suggerisce apertura e libertà il male di vivere quindi il malessere esistenziale che possiamo notare nella realtà quotidiana che in qualche modo costantemente ci ricorda la nostra condizione di degradazione isolamento e solitudine anche in questa lirica quindi montale intuisce o fa proprio ciò che più compiutamente approfondirà dopo la lettura del poeta inglese elliot vale a dire la tecnica del correlativo oggettivo nel componimento successivo cigola la carrucola del pozzo fa la sua comparsa un embrionale ricorso alla tecnica del correlativo oggettivo si tratta di un ritrovato teorizzato nel 1919 dal poeta inglese thomas stern elliot in un componimento intitolato hamlet and his problems cioè amleto e i suoi problemi il correlativo oggettivo è sostanzialmente un oggetto della nostra vita quotidiana a cui è abbinata una nostra emozione cioè la vista dell'oggetto suscita una determinata emozione un determinato sentimento quindi è una tecnica analogica che condivide alcuni aspetti con quelli tradizionali l'allegoria da un lato il simbolo e naturalmente anche la similitudine ma dal punto di vista logico ed emotivo funziona in un altro modo cioè non sono io come poeta che scelgo un oggetto e ne faccio il simbolo di una realtà di una condizione ma è piuttosto l'incontro casuale con più oggetti della mia vita quotidiana quindi anche molto comuni le forbici un pettile in questo caso il secchio di un pozzo per montale che fa scattare il sentimento corrispondente e su questo montale tornerà e questa idea sarà sviluppata attraverso proprio la lettura e un'attenta frequentazione del poeta eliot nella raccolta successiva le occasioni e quindi ci torneremo trovate questa lirica cigola la carrucola del pozzo sul libro di testo a pagina 319 e la ascoltiamo nella lettura di vittorio gasman cigola la carrucola del pozzo l'acqua sale alla luce e vi si fonde trema un ricordo nel ricolmo secchio nel puro cerchio un'immagine ride accosto il volto a evanescenti labbri si deforma il passato si fa vecchio appartiene ad un altro a che già stride la ruota ti ridona all'altro fondo visione una distanza ci divide la situazione è quella di un pozzo dal quale si trae su un secchio colmo d'acqua e per i primi versi l'immagine è positiva luminosa e confortante l'acqua sale alla luce e con la luce si mischia al verso 2 ed ecco che nell'immagine tremolante che ci viene rimandata dall'acqua nel secchio c'è un'immagine sorridente è naturalmente l'immagine di chi si sta specchiando in quel secchio ma nel momento in cui si beve ecco che l'immagine viene deformata e in qualche modo se bevo quando bevo persino io non mi riconosco più ecco che appartengo ad un altro l'idea è quella di istituire un parallelo tra l'impalpabilità e l'impossibilità di conservare in maniera solida e definitiva quell'immagine e la dinamica del ricordo perché in realtà la ruota cioè la carrucola stride cioè appunto cigola come nel titolo e quell'immagine viene rispedita nell'altro fondo notate il latinismo ecco la parola aulica che si inserisce in un contesto molto più quotidiano perché è una parola di derivazione addirittura dantesca buio cupo e la distanza ci divide esattamente come io non sono nella condizione di recuperare quell'immagine che ho visto nitida per un attimo nell'acqua all'interno del secchio così mi è impossibile trattenere fare mio possedere per sempre il ricordo la distanza del tempo mi allontana dalla nitidezza del ricordo come la distanza nello spazio mi allontana da quell'attimo di felicità e di gioia che mi viene suggerito dall'immagine quando il secchio per un attimo è tornato alla luce prima appunto che ricada nel buio del pozzo l'ultimo testo la cui lettura vi propongo dagli ossi di sepia è un testo per certi versi terribile è quello in cui il poeta realizza che tutta la realtà che lo circonda è soltanto un inganno e gli immagina di camminare in una giornata dall'aria gelida o comunque secca fastidiosa e di girarsi di scatto all'improvviso e di accorgersi che in realtà il mondo non esiste è soltanto una specie di inganno di bugia che una disturbata divinità per usare l'espressione dei limoni fa apparire perché noi possiamo vederla ma in realtà non esiste e nell'allontanarsi dopo aver fatto questa terribile scoperta montale porta tutto il peso dell'autoconsapevolezza acquisita e il senso di diversità da coloro che invece fingono di non accorgersene forse un mattino andando in un'aria di vetro è sul libro di testo a pagina 321 e di nuovo torniamo alla voce dell'autore qui la lettura è di eugenio montale forse un mattino andando in un'aria di vetro arida rivolgendomi vedrò compirsi il miracolo il nulla alle mie spalle il vuoto dietro di me con un terrore di ubriaco poi come su uno schermo s'accamperanno di gitto alberi case colli per l'inganno consueto ma sarà troppo tardi ed io me l'andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto siamo come vedete di fronte a una formulazione non molto dissimile dal punto di vista formale da spesso il male di vivere ho incontrato cioè due brevi strofette in contrapposizione tra loro in versi liberi che però ricalcano spesso la struttura dell'endecasillabo il tema qui è autenticamente terribile come dicevamo il poeta immagina che forse un mattino andando in un'aria di vetro cioè gelida e tagliente ma anche secca fastidiosa si girerà di colpo e vedrà ciò che assolutamente l'uomo non dovrebbe vedere cioè il miracolo ma in senso negativo l'evento straordinario e terribile dietro di noi se ci voltiamo sufficientemente in fretta non c'è nulla e rimane in noi soltanto la paura di chi ha perduto l'autoconsapevolezza come un ubriaco e sarà solo un attimo perché un attimo dopo digitto cioè improvvisamente s'accamperanno ossia troveranno posto si distenderanno come su uno schermo tutti gli elementi dell'inganno consueto cioè tutti gli elementi della realtà che noi vediamo ma che sono inganni che sono fasulli e la conseguenza sarà devastante perché sarà troppo tardi come si dice al verso 7 il poeta avrà acquisito autoconsapevolezza e dovrà convivere con quella terribile condanna lui lui solo sa mentre gli altri non si voltano e quindi emotivamente il poeta sarà solo e isolato con il peso il gravame di questo terribile segreto camminando in un mondo che non lo conosce o finge di non conoscerlo il componimento come dicevo è sicuramente molto duro e soprattutto suggerisce l'idea che l'esistenza stessa sia soltanto un grande inganno non si affronta in questi versi il tema dell'ingannatore però è chiaro che deve esistere una sorta di progetto perverso che sottolinea e pone costantemente l'uomo nel famoso male di vivere di cui abbiamo più volte parlato eccoci quindi giunti alla fine delle scelte antologiche dagli ossi di seppia vi rimando quindi a questo punto alla lezione successiva dedicata alla raccolta uscita nel 1939 e cioè le occasioni è successiva